La parola chiave è una sola ed è TIM. Se ne vogliamo usare tre potremmo dire TIM per il mobile, TIM per la casa e TIM in presa semplice. TIM è il marchio più credibile per accompagnarci nel futuro se supportato dall'autorevolezza di Telecom Italia. Infatti noi vogliamo fondere tutte le nostre competenze in una nuova TIM che appunto ci accompagnerà verso il futuro e siamo molto orgogliosi di poter dire TIM è il futuro firmato Telecom Italia. Le ragioni del cambiamento sono sotto gli occhi di tutti. Ormai parlare di connessione fissa e mobile è sempre meno rilevante per il nostro cliente. E noi vogliamo semplificargli la vita. Questo è il beneficio che vogliamo creare per il nostro cliente. E poi la comunicazione oggi è qualcosa di più che parlare e trasmettere dati. È accesso alla vita del XXI secolo. Noi stiamo passando in un'era in cui dal possesso andiamo all'accesso. Voi immaginate le informazioni. Prima c'era l'enciclopedia, adesso con pochi istanti c'è Wikipedia. I dischi sono stati sostituiti dallo streaming musicale, le cassette VHS, anche queste, dal download e dallo streaming. Quindi sta cambiando totalmente e la connettività darà la possibilità alle persone di vivere meglio. E questa è la nostra promessa. Noi vogliamo rendere tutti gli italiani connessi meglio alla loro vita. Connessi alla vita sempre, ovunque, meglio. Allora, questo è un processo molto complesso, molto lungo e molto delicato. Perché il brand nel nostro settore riesce a orientare le preferenze del cliente. Quindi lo stiamo gestendo con grande accuratezza. Abbiamo cominciato un anno fa con un censimento, una mappatura di tutti i momenti in cui la marca veniva a contatto col cliente. E abbiamo iniziato due tipi di attività. Una parte di renaming, quindi le offerte che si chiamano telecom, vogliamo che si capisca che si chiamano team. Quindi il logo team sulle panda dei tecnici, il logo team della bolletta, il logo team 3D, come l'insegna dei negozi, in cui viene offerta già tutta la nostra gamma di prodotti e servizi. E poi però c'è un'altra attività che per noi è ancora più importante, che è un'attività di riposizionamento. I touch point più importanti, quelli che dovranno garantire la connettività per il futuro. Noi stiamo cercando insieme a tutte le aree delle aziende di migliorarli per garantire ai nostri clienti la migliore delle esperienze di prodotto. Quindi stiamo proprio cercando di riposizionare la nuova team, unendo tutte le competenze della Telecom Italia e della team attuale.